Continuava a incassare la pensione della madre, anche se questa era morta otto anni prima. L'uomo, pregiudicato palermitano di 64 anni, non aveva infatti comunicato all'Inps il decesso della madre, continuando così a riscuotere, attraverso la delega ricevuta a suo tempo, gli importi mensilmente accreditati sul conto corrente della donna, spirata negli Stati Uniti, nell'ottobre del 2010. Su delega della Procura di Palermo, i militari della Guardia di Finanza della sezione di Polizia Giudiziaria hanno così eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso d'urgenza dal PM e successivamente convalidato dal GIP per circa 32 mila euro, pari all'ammontare delle somme illecitamente riscosse. I finanzieri hanno inoltre scoperto che le somme venivano spostate sul rapporto bancario intestato al figlio e poi investite su un conto deposito. La froda ai danni dello Stato è stata scoperta quando si è dato inizio alle pratiche di successione ereditaria tra i figli della signora. È così scattata la denuncia e di conseguenza il sequestro dei beni.